Questa strana è una staglia di direttore Signore e signori, Enrico Zio Buonasera Mario Sì, che faccio riguardo? Voglio dirvi che alle vostre spalle c'è il mancato del marciapising dove ci sono queste fantastiche bagnette da rottiera e che ne vimitata Vedi che sono così i nostri uomini di carci che vendono cappellini, magliette, cartine E se è deciso che si stanno a fagliarne E' un uomo che si capisce! Ti avete capito solo che alcuni l'ha fatto? Sì, avete così, però sì, però Anche se ti mette in ferma Quindi ti metterà a far pure Comunque va bene lo stesso Allora, qui lo faccio? Io non c'ho questo affluo giallo tra l'aria e l'aria Allora, c'è la pancata da qua La pancata da lì non ce la fai Ma hai visto? Ah, sì, c'è la pancata Ehi, però Tutto sul macro Sì, c'è la pancata 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 Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione